Scende ben al di sotto dei mille il numero delle quarantene scolastiche in provincia di Sondrio. Da fine gennaio ad oggi si è passati infatti da 3600 persone coinvolte tra studenti e operatori all'ultimo dato di 915. Di pari passo scende il numero delle classi coinvolte che sono 51. Come risulta dal dato complessivo regionale, il trend dei contagi è in riduzione in tutte le fasce di età considerate e in particolare in quella a 14-18 anni che conferma un decremento dei casi in atto dalle ultime quattro settimane. Nel dettaglio in provincia di Sondrio sono in quarantena 230 persone nelle scuole dell'infanzia e nei nidi, alla primaria 300, 100 alle medie e 300 alle superiori. Con lo stesso andamento della riduzione in provincia delle quarantene scolastiche si conferma anche la frenata nella diffusione del contagio su tutta la popolazione. Per Valtellina e Valchiavenna, ATS della Montagna indica oggi 172 nuovi positivi e una media sui sette giorni di 154 casi. I positivi ad oggi sono poco più di 1200 in tutta la provincia di Sondrio.